Come ti senti fisicamente dopo la caduta del fiandre? Hai recuperato? Vediamo, penso che... Sì, il tempo fa guarire tutte le ferite. Allora piano piano sto guarendo anche io. Hai fatto una ricognizione in settimana? Hai visto qualcosa di nuovo che non sapevi sulla rubè o hai trovato il pavè uguale al solito? Qualcosa di nuovo? In ricondizione no, però sicuramente in gara vedo qualcosa di nuovo perché ogni gara è diversa. Questa è speciale anche perché è l'addio di Bonen. Tu hai detto che è un tuo idolo. Com'è? No, dicevo, è l'ultima gara di Bonen. Tu hai detto che era un tuo idolo quando lui vinse il mondiale, tu avevi 15 anni. È speciale anche per questo questa rubè? Credo che già gara come Paris-Roubaix è speciale senza niente altro. Poi credo che può essere una gara speciale per Tom perché è l'ultima per lui e credo che è più importante per lui. Grazie. Grazie.